Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. Apriamo con la politica tappa abruzzese del sottore elettorale per il leader della Lega Matteo Salvini che ieri sera è stato a Giulianova dove è stato accolto dal sindaco Costantini e dai candidati in Abruzzo del Carroccio a zerare la legge Fornero e poi flat tax al 15% gli obiettivi per la campagna elettorale. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Reduce dal meeting di Rimini che ha ospitato tutti i leader politici italiani, Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, è arrivato a fine serata a Giulianova dove al Nova Vita Beach ha incontrato amministratori e simpatizzanti abruzzesi. Ad accoglierlo il sindaco leghista del comune riverasco Ivan Costantini insieme al coordinatore regionale abruzzese della Lega Luigi Deramo e Vincenzo Dincecco, capogruppo alla regione, entrambi candidati in questa tornata elettorale rispettivamente alla Camera e al Senato. Salvini, prima di concedersi al suo pubblico plaudente, ha incontrato la stampa rispondendo a domande sull'economia dell'Abruzzo, la linea politica della Lega sulla guerra, la litigiosità della coalizione di centrodestra nei territori. Proponiamo quello che in parte abbiamo già fatto, la flat tax, la tassa piatta semplice al 15% da estendere ai 2 milioni di partitaive che oggi ce l'hanno, alle imprese e alle famiglie, ovviamente a partire da chi guadagna di meno e fattura di meno. L'azzeramento della legge Fornero che manda in pensione un milione di lavoratrici e lavoratori nei prossimi anni e permette alle aziende di assumere lavoratori giovani la pace fiscale, la rotamazione dei cartelli dell'agenzia delle entrate e la revisione del reddito in cittadinanza. La Lega ha votato in Italia e in Europa qualunque tipo di aiuto all'Ucraina, semplicemente dopo mesi di sanzioni i numeri dicono che non stanno fermando la guerra e non stanno mettendo in ginocchio la Russia e quindi io faccio qualcosa che serve, anzi sono le imprese italiane che rischiano di pagare queste sanzioni, quindi sarebbe il primo caso nella storia in cui quello che viene sanzionato ci guadagna e quello che mette le sanzioni ci perde, bisogna provare in tutti i modi a fermare questa guerra. Cosa da dire ai gestori degli stabilimenti? Che con i decreti attuativi che farà il nuovo governo si possono tutelare tutti. Se si stabilisce il valore aziendale conguro per ogni balneare che volesse lasciare il posto e si stabilisce la prelazione per chi campa di questo lavoro, abbiamo reso un ottimo servizio a 30.000 aziende. Centrodestra è compatto, governa 14 regioni su 20, a sinistra queste politiche ho perso il conto di quanti candidati abbiano. Noi facciamo della compattezza e dell'unione un nostro valore aggiunto. Sin dal primo pomeriggio le forze dell'ordine, in particolare la Digos, hanno presidiato il lungomare Zara di Giulianova per evitare incidenti e proteste pericolose, dopo che due giorni fa era apparso proprio davanti al Nuova Vita uno striscione offensivo nei confronti del leader leghista. Ma il colpo di scena c'è stato e come, a sorpresa, a traffico bloccato, proprio sul lungomare è transitato il trenino turistico che non trasportava bambini, ma decine di dissidenti che hanno urlato di tutto. La Lega ha scelto candidati abruzzesi per questa tornata elettorale, una cosa particolare. L'Onorevole Deramo, che è anche coordinatore regionale, ha sempre tenuto in formato i coordinatori provinciali, ha sempre voluto delle scelte territoriali, ha sempre fatto dei ragionamenti logici insieme a noi, ma soprattutto insieme a Matteo Salvini, che dobbiamo ringraziare perché lui non mette catapultati come hanno fatto altri partiti, e l'Abruzzo avrà una sua realtà, avrà una sua rappresentanza e avrà degli amministratori sicuramente che potranno fare il bene del nostro territorio. Dovrà coinvolgere tutti. Ed ora la cronaca, il comune di Roseto degli Abruzzi annuncia che è stato proclamato il lutto cittadino per il 25 agosto, la giornata dunque di domani, giorno in cui si svolgeranno i funerali della compianta Flavia di Bonaventura, giovane rosetana che è venuta prematuramente a mancare a seguito di un terribile incidente stradale che ha visto coinvolti tre giovani rosetani. La celebrazione delle segue si svolgerà a partire dalle ore 16 in Piazza della Repubblica dinanzi al Municipio. Il comune di Roseto invita tutti i cittadini ad esprimere in forme e decise autonomamente la propria partecipazione al lutto e i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali alla chiusura dell'attività nel corso della cerimonia funebre, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Inoltre ordina l'esposizione a mezz'asta delle bandiere negli edifici pubblici. E quello di oggi è il giorno del dolore della memoria per il sisma del centro Italia. Sei anni esatti di distanza, resta vivo il ricordo delle quasi 300 vittime di diversi paesi che furono distrutti da una forte scossa di terremoto. Erano le 3.36 del 24 agosto del 2016 quando una tremenda scossa di magnitudo 6 ha stravolto la vita di intere comunità del centro Italia a ridosso dei confini tra Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche. Paesi distrutti come Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto con il disastro della frazione di quest'ultima, Pescara del Tronto. 299 le vittime, la maggior parte di Amatrice, 237, 388 i feriti. Diverse le testimonianze in questa giornata del dolore nella sua sesta ricorrenza che arrivano da tutte le parti politiche. Per la CGL resta viva la memoria delle vittime. Siamo stati sin dall'inizio accanto alle popolazioni sconvolte, ha scritto il sindacato in una nota, nella quale rilancia la proposta di una legge quadro che consenta al Paese di affrontare i traumi causati dagli eventi naturali con effetti disastrosi, con metodologie e criteri pianificati consentendo qualità nelle ricostruzioni e rigenerazione economico-sociale. La risposta del Corpo Nazionale fu immediata, ricorda Laura Lega, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Furono subito messi in campo più di 1000 Vigili del Fuoco, 40 sezioni operative, un impegno mantenuto nel tempo con oltre 215.000 interventi di soccorso tecnico urgente che furono fatti dal 24 agosto in poi. Oggi il nostro ricordo va a quella gente. A sei anni di distanza dal sisma si comincia a vedere qualche cosa di concreto nella ricostruzione. È stata lunga, è stata dura per la popolazione del territorio, però le istituzioni, lo Stato, la Regione, le Regioni sono presenti e stanno producendo il massimo sforzo per garantire la ricostruzione di questi territori, il diritto dei cittadini, delle aree interne di tornare a vivere e di tornare a vivere anche con maggiori servizi rispetto a quanto non avessero avuto fino al giorno del sisma. È un impegno forte che siamo intenzionati a mantenere perché ne va del futuro di questa terra. È stato rintracciato il conducente dell'autopirata che ieri sera ha scoppito in provincia dell'Aquila dopo le 22 ha investito e ucciso sulle strisce pedonali Giuseppe Colaiuda, assistente capo della polizia penitenziaria di 54 anni del luogo. Si tratta di un 42enne residente nella frazione aquilana di Sassa con precedenti per consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo dopo l'investimento del poliziotto si è dato alla fuga sul luogo dell'incidente e è intervenuto il 118 per il soccorso e i carabinieri della stazione di Sassa ma per Colaiuda non c'è stato nulla da fare. Sconcerto e dolore nella piccola comunità di Scoppito. E ora ci occupiamo di barriere architettoniche. Questa mattina in Viale Marconi a Pescara gli appartenenti dell'associazione Carrozzine Determinate hanno effettuato una dimostrazione per verificare le difficoltà di transito per chi a causa di disabilità si muove con la carrozzina. Paolo Renzetti. Ferrante, lei oggi è venuto qui per vedere qual è la situazione in via Marconi per quanto riguarda quelle persone che come lei sono costrette a muoversi sulla carrozzina. Quali sono i problemi emersi? Avevamo già denunciato questo scempio mesi fa non è cambiato nulla, ci troviamo di fronte a una situazione totale di fuori legge siamo completamente fuori legge qui c'è una violazione costante dei diritti umani abbiamo pendenze che superano le norme previste per l'accessibilità abbiamo la banchina di fermata che non consente assolutamente né di salire e né di scendere dall'autobus perché non c'è lo spazio necessario non ci sono i cordoli per la sicurezza il rischio di cadere in mezzo alla strada e di farsi male impossibilità addirittura anche di attraversare questa strada noi ci saremmo aspettati un allargamento del marciapiede se vediamo il marciapiede lato Monti praticamente ha una misura che consente ad una sola persona di percorrerla quando due si incontrano chiaramente uno deve indietreggiare insomma la qualità della vita in tutta questa zona di Pescara è veramente decaduta i disabili qui ormai non possono più venire non possono andare in farmacia, entrare in un negozio andare dal proprio medico, dal dentista ci troviamo di fronte a questa situazione drammatica poi noi divengono a pettine chiaramente in questo momento non sono tanto i semafori che sono via di installazione stanno appunto emergendo anche questi problemi che purtroppo erano stati annunciati e denunciati per tempo ma che evidentemente non sono poi stati seguiti da delle correzioni in corso e oggi è emerso appunto che per una carrozzina diventa difficile prendere l'autobus come purtroppo è stato già appunto denunciato sta emergendo che lo spazio ovviamente è insufficiente per ospitare tutto quello che hanno voluto mettere dentro questo progetto e questo rischia di diventare un grande detrattore è un problema, dobbiamo modificare sicuramente questo perché non è immaginabile che si costruisca una strada per tutti e invece una parte di utenza, almeno questa parte di utenza proprio non potrà neanche prendere l'autobus perché rischiano addirittura di capovolgo di sede e carrozzine è stato anche detto come già denunciato nel Consiglio Comunale straordinario che facemmo, sono state richieste ormai tanti mesi fa che se si incontrano due carrozzine ma anche due passeggini nei marciapiedi oppure sulle benzine uno deve scendere questa cosa nel 2022 è davvero indecente e purtroppo questo progetto più si va avanti questa nuova via le marconi volute dal centro-destra più si va avanti più fa vedere quanto sia davvero un progetto sbagliato L'Arta Abruzzo ha reso noti i risultati di ulteriori analisi che sono state effettuate nel fiume Pescara dove nei giorni scorsi si era verificato uno sversamento di idrocarburi ma dopo i controlli non c'è preoccupazione per i valori delle acque del mare vediamo L'Arta Abruzzo sin dai primissimi momenti dopo lo sversamento nel fiume Pescara si è messa al lavoro avete analizzato campioni d'acqua del fiume in più punti e in più giorni cosa è venuto fuori? Che nel luogo dove si è verificato lo sversamento ovviamente i valori erano alti ed erano alti con riferimento a degli idrocarburi quindi gasolio e altri oli pesanti ma la nostra grande preoccupazione era di capire fino a quando e in quale misura questo sversamento potesse anche riguardare il mare e conseguentemente la qualità delle acque di balneazione abbiamo effettuato quindi dei prelievi anche in prossimità della foce del fiume sia a nord che a sud quindi riguardando il mare con riferimento al mare e grazie a Dio abbiamo potuto scongiurare l'ipotesi di un interessamento anche della qualità delle acque di balneazione Direttore si può parlare a questo punto di allarme rientrato? È un allarme rientrato ma rimane il fatto di un gesto gravissimo compiuto da persone che saranno in corso di accertamento da parte delle autorità competenti che ha immesso nel porto canale di Pescara sostanze altamente inquinanti Resta questa bella notizia insomma che il mare il mare della bandiera blu di Pescara non sia stato interessato da questo sversamento? Grazie a Dio i rapporti di diluizione anche la quantità delle sostanze inquinanti dolosamente immesse nel porto canale non sono state tali da coinvolgere da come posso dire da pregiudicare la qualità delle acque di balneazione C'è stata per chiudere un'importante sinergia Artabruzzo direzione marittima comune di Pescara una volta arrivato l'allarme si è subito passato ai fatti Non solo c'è stata questa sinergia ma vorrei ricordare che ci troviamo nel pieno di una stagione come balneare che quindi è il mese d'agosto nonostante questo fin dalle prime non direi neanche ore fin dai primi minuti c'è stata subito un'immediata attivazione da parte dei tecnici di Arta che taluni anche ragionevolmente per il periodo magari non erano nella disponibilità del lente ma si sono resi tutti quanti con un grande sforzo organizzativo disponibili per poter prendersi cura veramente il caso di dire del mare di Pescara e dell'Abruzzo intero Demolizione e smaltimento illegale di autovetture è quanto avveniva in un terreno posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Pescara il proprietario dell'area è stato denunciato per la realizzazione di questa discarica abusiva Il reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato un terreno di circa 2500 metri quadrati utilizzato per la demolizione e lo smaltimento di autoveicoli l'individuazione del sito è stata possibile grazie ai sorvoli eseguiti dalla componente aerea del corpo nonostante il terreno fosse ubicato ai margini di un'area industriale ben mimetizzata tra la folta vegetazione e lontano da occhi indiscreti l'attenzione dei finanzieri è stata attratta dalle numerose autovetture in pessime condizioni localizzate all'interno di una struttura organizzata e ben delineata da un'apposita recinzione un più approfondito controllo ha permesso di appurare che non sussisteva alcuna autorizzazione per l'esercizio di un'attività commerciale nell'area e che la stessa non era nemmeno classificata come centro di stoccaggio o di scarica i finanzieri hanno dunque bloccato l'illecito smaltimento di oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi costituiti principalmente da veicoli fuori uso rifiuti in evidente stato di abbandono sul terreno privo di qualsiasi sistema di raccolta o contenimento dei liquidi pericolosi contenuti nei mezzi con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere gli uomini delle fiamme gelle hanno denunciato all'autorità giudiziaria e al proprietario del terreno per la realizzazione di una discarica abusiva in violazione alla normativa ambientale vigente l'attività prosegue anche per quantificare le violazioni alla normativa fiscale sono 955 nuovi casi positivi al covid registrati oggi in abruzzo effettuati 1.404 tamponi molecolari 4.079 test antigenici il tasso di positività è pari al 17,4% i nuovi casi provengono 201 dalla provincia dell'Aquila 230 da quella di Chieti 288 da quella di Pescara 222 da quella di Teramo 39 da fuori regione mentre sono scesi di 25 unità quelli per cui sono in corso verifiche il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.619 con i 4 nuovi casi dei quali 2 relativi all'Asl dell'Aquila che fanno riferimento ai giorni scorsi nelle ultime 24 ore i dimessi guariti sono stati 962 gli attualmente positivi scendono a 25.323 meno 11 rispetto a ieri 177 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica più 1 rispetto a ieri 9 in terapia intensiva più 1 rispetto a ieri Sitin degli Ossi in servizio alla Asla Lanciano Vasto Chieti per chiedere la stabilizzazione dopo aver lavorato nel periodo Covid vediamo il servizio Quali sono i motivi di questo sitin questa mattina sotto alla sede dell'assessorato regionale alla sanità di Pescara? Allora noi chiediamo a gran voce la stabilizzazione perché ci hanno estromesso completamente dalla stabilizzazione avendo già maturato chi prima chi dopo i 18 mesi ci hanno chiamato per un paio di mesi con un contratto di collaborazione ma in realtà noi siamo dipendenti a tutti gli effetti dell'Asl ma non abbiamo diritti né malattie né ferie non ci viene retribuito nulla se non le ore lavorative che ci vengono tassate più del dovuto e quindi chiediamo la stabilizzazione che questi 18 mesi valgano anche come punteggi quindi a pari dell'avviso pubblico perché noi prima eravamo gli eroi di questa emergenza poi dopo non serviamo più e ci hanno tirato fuori senza una spiegazione e non è giusto quindi noi ci chiediamo la stabilizzazione con tutti i diritti del caso Quanti siete interessati da questa avvertenza? Allora noi ne siamo 22 che lavoriamo con l'emergenza Covid infatti molti dei miei colleghi hanno contratto il Covid e non gli è stato nemmeno retribuito Ci sono gli strumenti legislativi e normativi sono stati adottati da altre regioni ad esempio degli avvisi con clausole di salvaguardia per coloro che hanno già lavorato premialità aggiuntive per coloro che hanno già lavorato si può fare se si vuole fare sicuramente non accetteremo e loro non accetteranno le promesse perché sono stanchi di promesse tra l'altro al danno la beffa loro hanno anche subito che quando si sono ammalati hanno chiesto poi all'Inps il pagamento della malattia e pare che la Las non abbia trasmesso la loro malattia all'Inps questa è veramente la beffa questo è troppo non si può sopportare una cosa del genere un'altra rassegna di cinema indipendente in un luogo evocativo di Chieti che è il giardino di Villa Frigeri per l'amministrazione si tratta di un nuovo punto per fare leva sulla cultura presso i giovani il servizio due giorni di appuntamenti culturali a Villa Frigeri a Chieti con il collettivo Aware di che cosa si tratterà? Nelle serate di giovedì 25 agosto e venerdì 26 ci saranno attività culturali di vario genere nella serata di giovedì proietteremo tre cortometraggi prodotti dalla casa di produzione pescarese One Shot Production su diverse tematiche legate al sociale che vanno dal tema dell'immigrazione fino alla tematica LGBT nella serata di venerdì invece daremo spazio alla musica la musica locale con tre artisti del panorama teatino Dian, Jimmy Eitz e Dan Vanad orario di inizio le 21 fino alla mezzanotte speriamo di una partecipazione numerosa alla cittadinanza teatina e non solo Il vostro collettivo culturale lancia cose urbane a Chieti ma in realtà avete già fatto altro? Sì, diciamo che nasciamo in un contesto meno urbano sono già tre anni che organizziamo il Festival delle Cose Belle nel weekend di Ferragosto lo abbiamo fatto i primi due anni nel Parco Nazionale d'Abruzzo a Passo Lanciano quest'anno in Umbria ed è un evento che un po' riassume lo stesso spirito delle cose urbane di Chieti tentiamo di mettere in comunicazione artisti provenienti da diversi ambienti per creare trasformazione culturale e promozione sociale su diverse tematiche siamo contenti che possiamo tornare un po' nei nostri luoghi natali sono teatino e il collettivo nasce qui e finalmente possiamo tornare a fare arte, promozione culturale dove tutto è cominciato Il 25 sarà dedicato ai cortometraggi quali sono i nomi delle regie? Sì, anche sull'ambito cortometraggi siamo molto felici di dare spazio ad artisti locali in particolare lo sceneggiatore e produttore Andrea Trono di Pescara il regista teatino Mattio Di Liberato Venerdì sarà invece la serata dedicata alla musica si parte alle ore 21 con violino e invece alle 22 sarà la volta di Jimmy Eitz che cosa proponi? Allora, il mio è un canto autorato è un progetto che si chiama Tropical Noir è un canto autorato un po' particolare perché tra note caraibiche, tropicali, psichedeliche cerca di raccontare un po' quelli che sono i problemi e i disagi dell'uomo della nostra società quindi canzoni che raccontano di migrazioni e di guerre Sempre a Chieti 50 anni di danza con la scuola di Cristina Nudi vediamo il servizio Spettacolo di danza classica alla villa comunale di Chieti che festeggia tra l'altro i 50 anni della scuola di danza ora chiamata Cristina Nudi ma nel 73 quando nacque era scuola di danza classica a Chieti la seconda in Abruzzo peraltro Sì perché all'epoca in Abruzzo non c'era la presenza della danza per cui la scuola che è la prima mia mamma è nel 1972 non vorrei sbagliare credo o la seconda o la terza perché c'era Teramo e l'Aquila e poi ci siamo stati noi qui a Chieti e quindi resistiamo ancora dal 1972 siamo nel 2022 un bel pezzo di vita decisamente passato a fare danza l'ho fatta tutta la vita quindi collaborazioni anche con Tornatore Sì collaborazioni abbastanza importanti devo dire molto belle e impegnative come assistente alla coreografia insieme con Leon Tisnell e sì la leggenda del pianista sull'oceano insomma diciamo che è un film che ricorderò veramente con grande amore perché è stato un lavoro molto importante molto formativo sulle musiche di Ennio Moricone che è stato il mio idolo noi l'abbiamo danzato tanto è stata un'emozione fortissima conoscerlo avere a che fare anche se in minima parte con lui insomma è stata veramente una cosa bellissima che non è da tutti poter vivere io ringrazio sempre chi mi ha dato la possibilità e per festeggiare i 50 anni portate in scena uno spettacolo che riguarderà quali coreografie allora portiamo sulla scena una rivisitazione della Carmen di Bizet in una versione proprio per la danza ovviamente rivisitata per l'occasione riadattata alle allieve di una scuola poi portiamo una parte dedicata alla danza moderna che vuole praticamente esorcizzare tra virgolette questo brutto periodo che noi abbiamo vissuto che ci ha visti anche un po' costretti all'inattività non abbiamo potuto danzare quindi un inno alla libertà alla gioia alla speranza e soprattutto per i giovani e poi una terza parte dedicata ai Pink Floyd è un gruppo a me molto caro con delle coreografie ispirate anche ai primordi fatti da Roland Petit quindi un omaggio ai Pink Floyd rivisitato da me e siamo allo sport Pescara sempre a caccia di un regista per cui sono in pista dei possibili ritorni uno è quello di Luca Palmiero in pole position ma che attende una chiamata dalla Serie B l'altro possibile ritorno è quello di Carlo Derizio a Pescara lo scorso anno e che ha proposte la squadra di C quali Turris e Monopolis fuma invece Joshua Tencorang della Cremonese che è diventato da pochissimo un nuovo giocatore della Virtus Sentella per l'attacco restano sempre in ballo le opzioni Marco Sau e King Udo anche se su quest'ultimo c'è forte Lavellino oggi doppia seduta per i biancazzurri da ieri sono tornati ad allenarsi delle Monache e Errasi e ora ascoltiamo Erdi Scraia Erdi Scraia quali sono le sensazioni dopo queste prime settimane di lavoro con questo nuovo gruppo per te? Diciamo che le sensazioni a caldo sono positive perché ho trovato un bel gruppo che lavora bene e comunque c'è il massimo impegno da parte di tutti ovviamente poi dobbiamo mettere minuti nelle gambe la condizione fisica quella che è però comunque secondo me se continuiamo a lavorare insieme a trovare analizziamo le cose che non vanno e che vanno riusciamo comunque a prepararci bene per il campionato Una trattativa un po' lunga ci pare quella tra te e il Pescara con anche chiaramente l'Atalanta cosa è accaduto in quelle settimane? No non è accaduto niente di che appena mi ha chiamato il Pescara devo dire che è stata una chiamata veramente che ho apprezzato fin da subito e poi con l'Atalanta ovviamente abbiamo risolto delle situazioni interne ma erano delle cose veramente piccole e niente appena ho avuto la possibilità di venire ero super contento di partecipare a questo progetto e non vedo l'ora di iniziare il campionato Le tue caratteristiche tecniche? Tecniche ti posso dire posso fare tutti i ruoli in mezzo al campo poi ovviamente sono un giocatore che predilige aver la palla che non averla però ovviamente ormai il centromampista deve saper fare tutte le fasi quindi mi metto a disposizione per tutto Sei stato in D in una piazza molto grande importante come Palermo poi hai fatto due anni di Lega Pro che stagione è questa per te per la tua carriera? Diciamo che è una stagione molto importante come quelle tre che mi ha appena nominato perché ogni stagione è la sua io spero di dare il mio contributo quest'anno e di alzare sempre l'asticella come ho fatto ogni anno quindi non vedo l'ora di dare il mio contributo in campo quest'anno L'ultima quanta attesa c'è per iniziare questa stagione che è slittata di una settimana dovete ancora conoscere il calendario stagione che porterà a cosa? Beh diciamo che lo slittamento del campionato può pesare però diciamo che noi siamo focalizzati sul lavoro ogni settimana la stiamo preparando bene e ci concentriamo su quello poi appena avremo notizie noi ci faremo trovare pronti si terrà domattina alle ore 10 l'udienza al Consiglio di Stato che dovrà giudicare i ricorsi presentati da Campobasso e Teramo che puntano alla riammissione nel campionato di Serie C o in alternativa all'ammissione in Serie D la sentenza è attesa tra il tardo pomeriggio di domani e venerdì mattina e subito dopo la Lega Pro diramerà i calendari il presidente Ghirelli ha fatto sapere che in caso di riammissioni ci saranno modifiche al format ma non all'attuale composizione dei gironi e come sono ore di grande attesa per la Teramo Calcio SRL del gruppo Ciaccia altresì lo sono per la neonata SS di Città di Teramo il buon esito del ricorso al Consiglio di Stato potrebbe annullare gli effetti del bando del Comune di Teramo in caso di confermata esclusione prenderà invece ancora più corpo il progetto della nuova società che potrebbe ricevere un ausilio esterno dall'ex presidente Luciano Campitelli peraltro nel pomeriggio odierno c'è stato un nuovo incontro tra i soci della Città di Teramo e la Commissione Comunale preseduta dall'Avvocato Gianni Gebbia per ulteriori approfondimenti sulla consistenza del progetto sportivo della SSD che punta alla missione in Serie D o in alternativa in eccellenza sempre in sovrannumero il volley ieri sera il raduno del roster dell'AB Pineto Volley dopo la finale promozione persa la scorsa stagione la società resta ambiziosa e tenta nuovamente la scalata alla A2 Sergio Zappalorto Allora Ruggero Balducci un dirigente che ci dà finalmente ci fa scoprire quel BA di ABBA perché AB sempre ABBA ABBA abbondanza è presente non ne possiamo più e adesso ci sta l'altro pezzo BA come Balducci Ruggero è un orgoglio essere diciamo così uno dei responsabili della dirigenza di questa splendida società che purtroppo diciamo che è una sola carenza gli manca la serie A2 per cui quest'anno abbiamo fatto veramente le cose alla grande in sede di mercato pensiamo di aver allestito una squadra con grandissime potenzialità per puntare alla A2 diretta visto che è cambiato il regolamento ci consente nella finalissima sconto diretto di poter accedere direttamente non passare per un lungo playoff perché i playoff sono sempre una lotteria però due anni fa semifinali l'altro anno finale quest'anno speriamo che il saldo di categoria sia arrivato al momento giusto diceva Manfredi fusca fusca la vota buona la ricardi pensiamo di sì anzi anche in questo la campagna acquisti è andato verso questo senso qui abbiamo preso dei giocatori anche un giocatore superlega ma giocatori che sono un mix tra giocatori giovani e giocatori esperti per pensare di programmare già una parte di essi già pronti per la A2 quindi speriamo di riuscire a centrare questo obiettivo fa parte dell'ambizione ABBA una società che vuole crescere e diventare leader nel suo settore anche pensiamo con un po' di presunzione che lo siamo già quindi vogliamo diventarla anche nella pallafolo quindi un messaggio in chiusura alla Mediasix SRL titolare dell'impresa di radio diffusione televisiva in ambito locale denominata TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni politiche fissate per il giorno 25 settembre 2022 a tal fine informa che nella sede di Silvi strada statale Nord 26 al telefono 085 930020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento con indicazione del termine ultimo per essere prenotati le modalità di prenotazione le tariffe per i messaggi politici autogestiti a pagamento determinate dalla Mediasix SRL ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma youtube oppure sul sito www.tv6.it grazie per l'attenzione e l'appuntamento è con le prossime edizioni del nostro notiziario grazie per la visione